Tra i compiti più importanti delle amministrazioni provinciali rientra quello del mantenimento ed efficienza del sistema stradale di propria competenza. Per la provincia di Taranto si tratta di una complessa rete viaria che supera per estensione i 1.200 chilometri. I fondi a disposizione non sono sufficienti per la loro manutenzione, che significa anche e soprattutto sicurezza. Per questo, nella svolta che si vuole dare agli enti provincia, che dovrebbero tornare ad essere sottoposti al voto diretto da parte degli elettori, bisognerebbe includere dotazioni economiche più consone ai compiti ad essi assegnati. Intanto, dopo decenni di parole, finalmente l'inaugurazione della strada provinciale 13. Presenti il presidente della provincia, Rinaldo Melucci, e il sindaco di Castellaneta, Gianni Di Pippa, il capo di gabinetto, Luca Stephens, e nel parroco, Don Antonio Favale. L'impulso dato da questa amministrazione provinciale andrà avanti anche con importanti interventi nei confronti delle strade provinciali 12 e 14, che hanno assieme alla 13 il compito strategico di collegare l'entroterra di Castellaneta e Palagianello a Castellaneta Marina, nodo turistico di grande rilevanza, ma anche quello di servire le numerose e importanti aziende agricole del territorio. Passando a destra della nostra provincia, si è riunito il tavolo tecnico per la Taranto-Vetrana o regionale 8, l'arteria di 53 chilometri che collegherà il capoluogo ionico con il punto più estremo del versante orientale della sua provincia. Ora i comuni interessati devono predisporre gli elenchi dei residenti nei confronti dei quali si procederà agli espropri e fra i pochi enti che hanno definito le rispettive procedure figura quello di Taranto, che adesso ha tutti gli elementi a disposizione per far arrivare il fascicolo istruito al vaglio del Consiglio Comunale. Novi comuni interessati a questa grande arteria che darà finalmente l'impulso giusto al turismo e all'economia di questa parte orientale della nostra provincia. Un'area di rilevanza strategica per tutto il Salento che nei decenni scorsi è stata colpevolmente abbandonata ad una rete viaria sfittica e assolutamente insufficiente per le grandi prospettive che questa parte della nostra provincia possiede.